Stringono ogni giorno più forte i cento legami sottilissimi ma saltissimi della nostra amicizia. È bruttino, è un bastardo. Quanto l'ha pagato? Trenta soldi. Non li vale senza vedermene. I suoi occhi, da prima d'aspetto muto, due ciliegia nere segnate d'un punto luminoso nel mezzo. Qualche mia promessa non mantenuta, del timore incerto che sospetta la burla nella minaccia. E chissà da quale catena egli procede, di povere bestie bastonate da padroni barbari, lapidate da monelli feroci, martoriate nei laboratori di fisiologia. Allora Giuseppe facciamo una prova. Tu riesci a penetrare con la tua mano nelle fessure già presenti ed esci con la mano? Proviamo così, col pugno. E mi avvito. Ok. Sarò a buio. No. Così funziona. Così non si muove. Va bene. Hai delle parti molto interessanti che stanno alla luce. Fra i tanti debiti di gratitudine, c'ho anche questo con lui. Che gli è? Mi ha fatto fare ammenda di un'ingiustizia. Mentre invece da in mezzo è interessante quando gli colpisce la faccia, ma poi quando non gliela colpisce, cioè quando ha finito era sempre a buio. Devi sparare molto di più le braccia e le gambe che escono. Forti di tutto ciò, buonanotte. Ogni parte. Eh.